buonasera ragazzi 1 a 1 napoli inter doveva andare così doveva andare così accontentiamoci accontentiamoci io speravo di una vittoria speravo di una reazione fortunatamente abbiamo pareggiato subito all'inizio del secondo tempo ragazzi quei rigori lì è sfortuna andiamo a colpa a De Vrij andiamo a colpa a nessuno e questo Osiman è l'anticipo De Vrij ha preso la gamba anziché il pallone e questi sono gli episodi ragazzi queste sono partite che vanno episodi quindi ci è andata male anche stavolta con i rigori andando ancora un po' ci arrivava ma in segno è chiamato lo stesso fortuna che Dzeko poi l'ha sbloccata l'ha pareggiato nel secondo tempo fatto sta che l'Inter è bruttissimo nel primo tempo nel secondo non così bella neanche il Napoli ha fatto questa gran partita nel secondo tempo e entrambi le quali si sono un po' accontentate partita brutta partita brutta non mi è piaciuto non mi sono piaciuti troppi giocatori Lautaro nullo deve farsi un po' di panchina c'è la Noglu deludente Brozovic non un granché abbiamo sofferto un po' Osiman lì davanti in attacco poca roba l'unico che si è impegnato di più Dumfries bene ha sbagliato tanti palloni eppure quello che si è impegnato di più certo che di fronte c'hai un Koulibaly che te le prende quasi tutte lì è difficile De Vrij ha sofferto invece Osiman all'interno chiudeva bene ogni tanto se lo perdeva fatto sta che questo pareggio qui certo è una vittoria è stata fantastica perché allungavi sul Napoli e quantomeno già lì in Mina non ti superava però ragazzi teniamo conto che queste sono partite difficili noi avremmo dovuto vincere col Mina a questo punto quando uno pareggiare col Mina io da queste due partite Mina e Napoli volevo uscire come minimo due o quattro punti al meglio certo sei punti è stato fantastico siamo usciti con un punto in due partite quindi lì abbiamo un po' perso terreno però ragazzi ogni tanto succede non si può vincere sempre non si possono fare partite sempre spettacolari non dobbiamo perdere la testa non è successo nessun disastro è vero anch'io vorrei un'Inter più bella un'Inter più che riesce a staccare gli avversari siamo soltanto a febbraio quindi può succedere ancora di tutto io ho fiducia in questa squadra vediamo poi cosa succederà successivamente la prossima partita sarà col Sassuolo in campionato quindi già da lì dobbiamo cominciare a conquistare tre punti abbiamo avuto due battute d'arresto con Milan potevamo far di meglio come risultato e siamo usciti con zero punti qui potevamo far peggio e quanto meno siamo usciti dalla stadio Armando Maradona con un punto punto come lo tengo stretto così come è capitato l'anno scorso con gol di Eriksen tra l'altro gol del pareggio quindi anche in quel caso lì è stato un punto pesante per la visione del campionato e stavolta possiamo considerarlo forse tale sperando che di non avere poi i crolli successivi e comunque l'Inter non mi è piaciuto molto quello lo si può anche dire però dall'altra parte c'è un Napoli che è una grande squadra e non puoi pretendere comunque di fare un gran gioco contro una squadra così così ardua e che dobbiamo fare che dobbiamo fare nel senso alla fine tante partite appunto come vi dicevo vengono decisi da episodi di quel rigore lì ci stava quasi condannando alla sconfitta perché parte che poi nel primo tempo Andanovic è stato miracoloso ci ha salvato in tante situazioni che poteva andare ancora peggio e il fatto è che in fase d'attacco dalla nostra parte non è che abbiamo fatto chissà che cosa cioè qualche cross sballati Sanchez alla fine sembrava che doveva fare e poi alla fine due cross di merda da calcio d'angolo uno all'esterno dell'area a nessuno uno troppo sul portiere cazzo due cross neanche uno al centro dell'area città batterne e quando sbagli questi palloni qua va così ragazzi per il resto niente ora testa mercoledì mercoledì sarà una partita particolare con il Liverpool in Champions League ci ritroviamo in Champions League aiutati di finale dopo oltre dieci anni dove non abbiamo nulla da perdere in quel senso lì io certo non voglio fare brutte figure però sinceramente io ho la testa più al campionato lo scudetto sinceramente piuttosto che alla Champions League ma per il semplice fatto che di fronte abbiamo un Liverpool che è fortissimo quindi le probabilità di vittoria sono davvero minime certo ci vuole un minimo impegno quello quello sicuro vorrei che quantomeno provarci non avendo niente da perdere ma quantomeno non perdere malamente quindi ora archiviamo questo pareggio pareggio secondo me importante pesante pareggio pesante perché ci sta ci sta per come si stava mettendo e poi soprattutto a Napoli uscire con un pareggio non è mai non è mai male certo se vinci sarebbe spettacolare ma ovviamente non ti può andare sempre bene e noi guardere guarderemo guarderemo poi al futuro pensando poi da domani penseremo poi della partita con Liverpool e poi successiva con Sassuolo ci sarà poi la sosta mi sembra vediamo poi intanto domani ti faremo Sampdoria che affronterà il Milan a San Siro a mezzogiorno e mezza caderemo a fare il suo favore tanto il Chelsea è campione in diretta Chelsea campione del mondo per club Chelsea che vince contro il Palermo 2 a 1 ragazzi e niente noi ci vediamo nel prossimo video fare un gameplay sicuramente giocando mi ricordi penso martedì con l'Inter e Liverpool con il 2021 ultimamente un gameplay non così fantastici dove impegniamo un po' di più dove recitiamo un po' di più perché ultimamente sono un po' maluccio comunque 1 a 1 teniamocelo stretto non facciamo grosse crisi di Inter no va bene così 1 pari abbiamo giocato maluccio vabbò avanti così pensiamo già alla prossima poi se il Milan avessi vincito a pareggiare chi se ne frega siamo ancora lì l'importante è essere lì poi poi si vedrà ragazzi a presto buon proseguimento buon weekend buona domenica sempre forza Inter né bene né male dai facciamoci forza ora il peggio forse il passato dovrà venire il meglio speriamo a presto buonanotte sempre forza Inter ciao